Prendiamo penne? Voglio scrivere una lettera al Santo Padre? Andiamo? Santo Padre, io scrivo questa penna, vedi? Io scrivo, questa non scrive, penne numero due, non scrivo un cazzo, e allora sai cosa ti dico? Queste penne non scrivono un cazzo amici, io mi devo agitare qui, non ne posso più, adesso andiamo a prendere queste, qui c'è scritto bene, orecchiette, vedete amici? Apriamo orecchietta, io non sento bene, metto l'orecchietta, non sento più un cazzo, e allora anche questa è una cazzata amici, come mai vengono solo stronzati in Italia? Non capisco? Ora abbiamo pezzo forte, è scritto qui, uva passa, allora bene, prendiamo l'uva, questa uva passa, vedete? Passa? Passa? Passa e non saluta? Ma che cazzo possi a fare? Io mi incazio!